A me, a media, tutto in casa. Ok, freelance è tutta questione di equilibrio. Perché? Perché se mi immagino un freelance, me lo immagino così. Tra l'altro questa, chi è che la conosce? Questa è un'illustratrice, insomma potrebbe chiamarsi Instagram Art. Spielkin si chiama lei, adesso qui più so poi è tagliato. Comunque poi nelle slide lo trovate ed è anche tutto firmato. Da queste cose bellissime con un paio di personaggi, sotto elementi della natura, fiori, eccetera, eccetera. Insomma io un freelance me lo immagino così. Quindi che sta in equilibrio tra tante cose che deve gestire, verso la possibilità di gestire progetti bellissimi, quindi far crescere se stesso e la sua professionalità in libertà totale, deve però riuscire a tenere in equilibrio alcuni elementi, che sono il tempo, le competenze, i progetti che gestisce, i soldi, e non ultimo le sue emozioni. Dov'è Marie Claire? Marie Claire ha pubblicato pochi giorni fa un ebook bellissimo sul suo primo anno da freelance e c'è una parte molto utile sulla gestione delle emozioni, perché insomma io ho fatto prima di essere freelance più di dieci anni in un'agenzia, quindi avevo un branco attorno a me. Quando uno diventa freelance, questo macchinetta del caffè quotidiana non ce l'ha. Quindi a volte si trova un po' a ragionare su se stesso, si mette in questi tubi di riflessione, quindi tutto va male o tutto va bene. Quindi anche questo è uno tema su cui stare in equilibrio. La prima cosa su cui dobbiamo stare in equilibrio è la gestione del nostro tempo. Un motivo per cui difficilmente tornerai indietro, quindi tornerei dentro un posto in cui qualcun altro decide come gestisco il mio tempo, è perché il freelance ti permette di avere una libertà totale. Puoi cominciare la mattina alle 5, perché come me si alza presto, e finire quando vuoi. Puoi prenderti il pomeriggio per andare in spiaggia senza chiederlo a nessuno. Però il tempo lo sappiamo benissimo, è la variabile più finita che abbiamo, è quella che è sempre più preziosa. E allora riuscire a tenerlo in equilibrio come si fa? La prima cosa è pianificare, quindi darsi dei tempi. Io per esempio pianifico della grossa un anno, quindi so che ci saranno dei periodi che sono i periodi forti della formazione, che sono la primavera e poi settembre, ottobre, novembre, in cui ci sono tante iniziative, e poi il resto dell'anno. Pianifico ogni mese, quindi mi faccio ogni mese un calendario di dove sarò, cosa farò. La settimana, questo di solito serve a evitare il panico della domenica sera, della sera, oddio domani devo andare a Milano, devo alzare le quattro, ok? Così lo so un po' prima e mi sistemo bene, insomma, il resto dei giorni è tutto quello che non è vita lavorativa, tra l'altro. E poi la giornata. Qui è utilissimo avere chiaro che cosa si farà, programmarsi più o meno le ore, come strumenti, boh, ce ne sono tanti. Io per esempio uso Google Calendar, e sul breve periodo uso i post-it, sul brevissimo periodo mi scrivo le cose sulle mani, quelle che proprio non mi devo dimenticare assolutamente. Basta che funzioni, ok? Coltivare altri interessi, perché? Perché lo sappiamo che capita, specialmente per i freelance che lavorano a casa, di sedersi e rialzarsi, che sono le quattro del pomeriggio, senza rendersene conto. Avere qualcos'altro da fare ci aiuta a stare in equilibrio, perché? Perché esco e vado a correre, esco e vado, non io, esco e vado in piscina, ok? E l'altra cosa che personalmente trovo molto difficile da mantenere in equilibrio è il multitasking, quindi fare più cose nello stesso momento, che vuol dire leggere il mail mentre si sta preparando una presentazione, avere sempre le notifiche dei social network accese, ecco lì, questo genera ansia perché si arriva alla fine e non si ha completato quello che si stava facendo e soprattutto si ha tante finestre aperte e spesso la sensazione è quella di non riuscire ad affacciarsi bene a nessuna di queste, perché sto facendo tante cose contemporaneamente. Quindi tecniche come quella del pomodoro, quindi mi tengo un tempo ben definito in cui faccio una cosa sola e la devo finire, funzionano, e darsi per quanto possibile delle regole nella gestione del proprio tempo. Il freelance è in bilancio di competenze, perché? Perché se ho attorno 20 persone che fanno tutte benissimo una cosa, se ho bisogno di qualcosa mi esporgo dalla scrivania e dico ascolta, sta cosa qui che fai benissimo tu, come si fa? O allo stesso modo sempre di più dobbiamo essere degli specialisti, o comunque capire che cosa ci distingue, diceva bene Luigi prima, quindi che cos'è che sai fare tu, che sai fare bene, tu chi sei e che cosa sai fare. d'altra parte un freelance non può essere bravo a fare unicamente una cosa e non avere alba di quello che ci sta appena attorno, perché? Perché altrimenti è un'isola ma non ha connessioni, quindi la prima cosa è naturalmente trovare quello che sappiamo fare, trovare il nostro saper fare, e in un libro molto interessante che è The Freelance Bible, che è un mattonazzo così, l'autrice dice di solito il nostro saper fare sta nell'intersezione fra quello che sappiamo fare bene e quello che ci appassiona. Io penso che sia molto vera questa cosa. Forte specializzazione ma teniamoci anche delle competenze trasversali, cioè se faccio web designer devo essere un fantastico web designer ma devo sapere che cosa vuol dire motore di ricerca, che cosa vuol dire SEO, perché? Perché altrimenti vuol dire che mi mancano, se non altro i tasselli, per capire con chi devo parlare se ho bisogno di approfondirlo, perché non so che esiste questa cosa. E poi tenersi un piano di formazione, quindi dire ogni anno, ok, quest'anno mi voglio fare dei corsi, voglio imparare a fare meglio, voglio approfondire tre, quattro cose, due, di modo che man mano abbiamo il nostro, diciamo, la nostra base di cose che sappiamo fare bene ma sappiamo anche dove ci andiamo a migliorare. Il freelance poi deve stare in equilibrio sui progetti, ok? Il famoso tema, ma pochi e super consistenti, senza arrivare alla monocommittenza, che a mio avviso è, vabbè, a parte essere, diciamo, probabilmente non è il freelancing, il quadro ideale, è molto rischiosa, quindi un cliente solo, ok, può cambiare idea, insomma, in questo periodo sappiamo che non c'è esattamente stabilità. Comunque, il bilancio qui è tra progetti a lungo termine e progettoni, e poi invece cose one shot, quindi progetti più piccoli, che hanno l'inizio e una fine, per noi tipicamente è il progetto di un cliente che segue per più mesi o appunto il parlare ad un evento piuttosto che la giornata formativa. vanno tenute in equilibrio tutte e due, perché? Perché una è qualcosa che costruisco nel tempo, mi dà stabilità, e l'altra, naturalmente è importante nel nostro budget, ma è anche quella che mi può aprire a nuovi progetti di lungo periodo. quindi qui cosa devo fare? Bilanciarli, devo cercare di bilanciare lungo termine con le cose che sono one shot, e soprattutto rimanere attivo su tutti e due gli orizzonti, qual è il rischio? Quando ho alcuni progetti che mi permettono di dire ah ok, per quest'anno insomma ci sono, il rischio è quello di fermarsi, quindi non continuare a far sapere chi siamo, far sapere che cosa facciamo, in che cosa siamo bravi, come possiamo aiutare l'azienda che sta dall'altra parte. E invece no, perché? Perché seminiamo oggi per raccogliere fra mesi probabilmente, a volte fra poche settimane, a volte poi le opportunità arriveranno fra dei mesi. Quindi bilanciare i due è anche mantenersi un orizzonte di continuo, come si può dire, incremento delle possibilità di avere nuovi progetti. Non ultimo dobbiamo bilanciare la parte dei soldi. Perché? Perché abbiamo entrate e uscite, perché abbiamo comunque delle scadenze fiscali, per cui anche se non ci pagano, quelle lì le dobbiamo pagare. E questo è uno degli elementi che, almeno da quello che vedo, per noi freelancer è più difficile da gestire. Perché? Perché siamo bravi nel web marketing, siamo bravi nel copy, ma gestire dei soldi è un'altra cosa. Difficilmente se uno non ha fatto un percorso in cui lo impara, poi si improvvisa all'inizio. e invece può diventare pericoloso improvvisare. Allora, la cosa fondamentale è fare i conti all'inizio. Domani Alessandra ci aiuterà a dare un metodo anche a come fare i conti. Cioè quanto devo vendere ogni ora di lavoro, quanto devo fatturare per avere un utile che mi permetta di pagare le mie spese, vivere bene, mettermi da parte una pensione e così via. Prevenire gli insoluti. E come si prevengono gli insoluti? Io vi dico quello che faccio. È capire prima chi ho dall'altra parte e quando vedo che c'è un profilo di rischio, tra virgolette qualcuno che non conosco, qualcuno con cui non ho una relazione diretta o un passaparola, faccio delle condizioni di pagamento per cui per esempio chiedo degli anticipi. Quindi vedo di ridurre il rischio in questo modo. E soprattutto evitare le spese fuori controllo. Perché lo sappiamo che a fine mese la carta di credito dice ma tutti sti soldi su Amazon? Eh sì, tutti sti soldi su Amazon. Quindi tenersi una traccia di quello che abbiamo speso in modo da avere poi a fine anno meno sorprese possibile. Non ultimo il buon commercialista. Quest'anno ce l'abbiamo il commercialista? Sono scappati? Grandi, eccoli. Il nostro commercialista preferisce. Il nostro commercialista preferito. L'anno scorso ha fatto un auspicio incredibile senza svelare che era un commercialista. E quindi ho detto mi piacerebbe trovare un commercialista con cui posso fare tutto online, posso condividere i documenti senza doverglieli stampare, andare in processione, portarglieli. E poi alla fine ci ha detto che lui lo fa. Quindi trovare un buon commercialista fa la differenza perché ti può guidare in certe scelte e soprattutto prevenire dei passaggi che tu se li fai da te lo scopri dopo che si poteva fare meglio. Non ultimo, come dicevo, un buon freelance tiene in equilibrio le proprie emozioni. Cioè il proprio sentirsi bene. Traduciamolo così. Perché? Perché appunto ci sono dei momenti in cui hai ritmi di lavoro molto stressanti, altri in cui dici ok, ma qui nei prossimi mesi non so che cosa andrò a fare. Perché? Perché siamo contemporaneamente l'operativo, l'amministrativo, il commerciale, siamo tante figure messe insieme. Biliana, in una delle interviste molto belle tra l'altro che trovate sul blog, rappresenta sul sito freelancecamp.net rappresenta il freelance come quei suonatori che contemporaneamente suonano dieci strumenti diversi. Siamo un po' così, dobbiamo saper fare tutto. E non sempre è semplice. Allora, qui che cosa possiamo fare? Per esempio portarci pazienza. Ci sono dei periodi delle giornate in cui automaticamente è tutta una tragedia e chi me l'ha fatto fare e altri periodi in cui è tutto wow, fantastico. Questo è normale. E allora portarci pazienza significa vedere le cose in un orizzonte più più lungo, vederci in prospettiva, mettersi lì e dire ok, che cos'è che sta andando bene che cos'è che sta andando male quindi fare una vera e propria analisi. Circondarci di persone positive e questo è chiaro insomma lo sappiamo senza stare a scomodare i neuroni specchio se ho attorno persone che trasmettono negatività dalla mattina alla sera sarà difficile avere una prospettiva positiva e soprattutto non ultima non chiuderci ma aprirci al confronto momenti come questo servono anche a scoprire che probabilmente sono temi comuni aprire al confronto con una telefonata ad un amico e dice guarda mi sta succedendo questo e questo come faccio oppure voglio condividere una cosa bellissima che sono riuscita ad ottenere su questo progetto quindi non tanto lasciare che il nostro ufficio in casa o comunque la nostra scrivania anche sulla spiaggia diventi un posto chiuso ma aprirlo e chiudo con una citazione di un signore insomma che scrive bene che è Alejandro Chodorowsky non so se c'è Mariela se è già arrivata oppure no comunque scrittore registra ehi ciao franco cileno che dice si habla creas futuro si caia se il presente è eterno quindi se parli crei dei futuri possibili mentre se stai zitto il presente è eterno e questo è diciamo un duplice invito sia condividere quello che da freelance sappiamo facciamo ma anche far sentire la nostra voce qui c'è anche Acta che parlerà oggi e domani quindi insomma mettiamoci insieme perché grazie alla condivisione sia del nostro sapere che di quelli che sono i punti su cui la figura del freelance può sicuramente migliorare andremo molto 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 meglio a lei grazie 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 grazie